Ciao ragazze, allora video giveaway è da tanto tempo che volevo farne uno sono passati due anni da quando ho fatto il primo video su youtube siete cresciute tantissimo siete molto affettuose come sapete io vi sono molto affezionata e so che voi siete affezionate a me e quindi ho deciso di farvi un regalino trattasi di questa palette qui di Kiko questa è la mia naturalmente ed è questa palette total look questa mia è l'exquisite night exquisite night? exquisite night? insomma non lo so perdonatemi la pronuncia però vi posso già dire che mi piace tanto lo sto utilizzando tantissimo vedete? è già molto utilizzata ha 4 ombretti una terra, un bronzer, un blush un gloss e un mascara poi ci sono le varie spugnette che io non ho messo perché comunque cadono sempre inoltre c'è questo grandissimo specchio che è molto utile perché ci si può truccare fuori io questa la porto con me in morsette la sto utilizzando veramente tantissimo ha scalzato tutte le avversarie e mi piace molto 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 ve l'ho già detto ieri ho fatto questo make up di cui vi metto qui un piccolo assaggino riproducendo quello che viene consigliato nella cartina in allegato e quindi ho cercato di riprodurlo e devo dire mi è piaciuto tantissimo e stavottina invece ho fatto questo qui così utilizzando soltanto questi due colori tra l'altro questo marrone qui davvero mi sta piacendo tantissimo perché ha un sottotono bluastro molto carino, inaspettato che poi si emerge pian piano sfumando il colore è davvero molto molto particolare e molto bello io me ne sono innamorata quella che regalo a voi invece è questa ed è nella tonalità 01 questa qui ho deciso di prendervi questa ho anche pure di aprirla non vorrei rovinarla perché sono toni più neutri e magari adattabili di più a tutte o comunque che incontrano di più i vostri gusti eccola qui questa è completa naturalmente di tutto vedete? colori molto 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 belli non voglio toccarla più di tanto il gloss è molto bello mi piace molto più questo che quello che c'è nella palette che ho io poi ci sono il blush e la terra anche qui, vedete? ho il terrore di rovinarla eccola qui quindi ragazze il premio è questo io prima di metterla in palio ho voluto provarla per un po' di giorni proprio per rendermi conto della validità del prodotto e devo dire che mi piace tanto quindi ve la regalo con molto 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 piacere le regole sono facilissime essere iscritti al mio canale lasciare dei commenti sotto questo video quindi sotto questo video lasciate dei commentini poi io sceglierò quello che mi colpita di più vi ricordo sempre che non sceglieranno ma sono io a scegliere i commenti per cui scrivete qualcosa di sensato cercate di impegnarvi almeno a scrivere qualcosa di sensato e dopodiché alla chiusura del giveaway deciderò io chi sarà la fortunata vincitrice altra regola importante mettete questo video tra i preferiti di modo che possa circolare un po' detto questo ragazze la scadenza la deciderò come al solito in itinere quindi nel corso dello stesso e vedremo un po' come andranno le cose quindi deciderò la scadenza ma penso che sarà un pochino più lungo del solito proprio perché voglio dare modo a tutte voi di partecipare, di accorgersene e così via detto questo vi do un in bocca al lupo partecipate numerose io spero che vi piaccia questo premio vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima ciao